Di lei non si avevano più notizie dallo scorso 31 agosto, quando una sua connazionale ha lanciato l'allarme. I carabinieri sono stati impegnati per giorni nelle ricerche, purtroppo però il corpo senza vita di Anna Evorenko, 68enne di origine ucraina, è stato trovato nella tarda serata di ieri, lungo l'asse mediano all'altezza del chilometro 14 direzione Lago Patria. I carabinieri, vigili del fuoco e la protezione civile l'hanno cercata in lungo e in largo per svariati giorni con cani molecolari e droni, setacciate la via Appia e le campagne limitrofe, ma di lei si erano perse le tracce. La donna, in fuga dalla guerra, soffriva di diabete ed è rimasta senza cure per giorni interi. Ora sul suo corpo sarà disposta l'autopsia per comprendere le cause del decesso. È probabile che sia stata investita da qualche auto in corsa e che il cadavere sia stato gettato ai lati della carreggiata oppure che abbia avuto un malore dettato dalla malattia. Per ora i militari dell'arma non escludono alcune ipotesi.